Hi guys, bentornati a questo lunedì delle risposte. Oggi sono in un posto fantastico, super panoramico, su questa sedia che è super rilassante, dovrei girarla per guardare il panorama di là, ma prima voglio rispondere alle vostre domande e ancora prima di rispondere alle vostre domande voglio chiedere scusa a chi non riceverà una risposta oggi, ma ho fatto un danno, ho cancellato la cartella con le domande e per questo che chiedo a chi non riceve una risposta oggi se per favore mi può nei commenti rimettere la domanda e io prossimo lunedì vi risponderò. Questo è purtroppo nel trasferire le cartelle dei video, di tutte le clips che ho nell'hard disk, quando poi sono andato a pulire il computer ho cancellato tutto e non mi sono accorto che c'era quella delle domande. Sono qua in Honduras, posto bellissimo panorama e come ho detto lo vedrete nei prossimi video, non perdetevi perché è veramente fantastico anche la storia di Raul, la persona che ha costruito questa bellezza, questa idea, questo sogno l'ha reso reale, però questo è un altro video. Adesso sparatevi la sigla e ci vediamo tra 12 secondi e 30 millesimi di secondo centesimi. Uno, due, tre. Eccoci qua, torniamo, ci serve però il computer, eccolo qua, computer, stavo già pronto, tanto se volete sapere un aggiornamento Milan Zero Inter 2, quindi sto registrando di mercoledì. Occhiale tattico. Andiamo con le domande e devo chiedere un'altra volta scusa, iniziando da Simone. Allora, le prime tre domande sono del gruppo Telegram. Do precedenza a chi è iscritto anche al gruppo Telegram, che è gratis, quindi anche tu ti puoi iscrivere al gruppo Telegram, in descrizione c'è il link e farmi la domanda. E Simo, scusami, ma avevo fatto la fotografia ma mi era andata nel dimenticatoio, però non l'avevo persa e qui sono a rispondere la tua domanda. Mi piacerebbe sapere un tuo parere o consigli che daresti a una persona che vorrebbe intraprendere una vita tipo la tua. È un po' che mi balena questa idea per la testa. Simo, hai la fortuna di conoscere me e volendo puoi venire a fare un'esperienza con me due, tre settimane, così vivi proprio il modo in cui io viaggio e puoi capire se puoi fare per te o cosa può servire a te. Parere e consigli che do. Consigli, è meglio non dare consigli alle persone. Io posso condividere la mia vita dopo una persona deve prendere la cosa che vuole dalla mia perché quello che sto facendo io non è neanche perfetto per me, quindi non può essere perfetto né per te né per chi mi segue. Ognuno deve costruirsi il suo viaggio, il suo modo di vivere. Il consiglio o parere che ti posso dare è se ti balena per la testa questa idea prova, prova, prova. Perché solo provando che potrai capire se è quello che vuoi veramente, se sarai felice oppure no. E se provi non avrai il rimpianto, tra qualche anno dirà ma perché quando ci pensavo non ci ho provato, adesso sono troppo anziano, magari ho fatto famiglia o altri progetti, non posso più fare quella cosa che volevo fare. Se hai la possibilità prova, la paura è normale, ma fidati che dopo il primo passo fuori dalla comfort zone tutto è in discesa. Ovviamente ci sono situazioni un po', non voglio dire delicate, ma particolari. Il viaggio alla fine è come il viaggio che ognuno di noi sta facendo, il viaggio della propria vita, no? C'ha up and down, punti alti, punti bassi e non è sempre bello neanche viaggiare. Io quello che cerco di far vedere nei miei video è proprio la vita quotidiana del viaggio, non solo i momenti belli di viaggio, non solo i momenti che sono in compagnia con magari delle belle ragazze o con degli amici o con delle persone interessanti. Ci sono anche i lati negativi, i lati quando si è soli, quando piove, quando fa freddo, fortunatamente ancora siamo all'asciutto, non ha ancora piovuto, però presto inizieranno anche la stagione delle piogge, quindi avremo anche questo problema. Di conseguenza Simo, prima cosa, se vuoi vieni con me e prova, hai ancora diversi mesi, prima che finisco il viaggio, quindi hai ancora tempo. Per il resto inizia, inizia, è l'unica cosa che ti posso dire, non c'è segreti, non ci sono segreti. Seconda domanda, sempre da Telegram, Gianni Salamanca, appena visto il video con le risposte del lunedì, come al solito, interessante, proverò a farmi la fettucina con la tua ricetta, ho una curiosità, mi piacerebbe sapere qual è stata la situazione più pericolosa in cui immagino ti sarai trovato. Ciao Fabrizio, saluti da Roma. Gianni, ti immagini male? Oggi che sto registrando, trentesimo giorno in viaggio, compreso l'Europa, non ho mai, ve lo giuro, non ho mai avuto una situazione pericolosa in questo viaggio. Capiterà? Sicuramente sì, non so quando, speriamo il più lontano possibile, però vivendo in strada le chance, le opportunità di rischiare, ovviamente sono più alte rispetto a dormire in una casa, in un paese tranquillo. Però ad oggi, in 300 giorni, giuro, non ho mai avuto nessuna situazione pericolosa. Terza domanda è ultima di Telegram. Erika, quando hai dormito la seconda notte a El Salvador eri tranquillo? Nel video avevi detto che lungo la strada ci sono state delle rapine due anni prima. C'è un segreto per dormire tranquilli? Allora, il segreto per dormire tranquilli è chiudere gli occhi e pensare a qualcosa di bello. Però sì, ero tranquillo perché a parte che su iOverlander diceva che il posto era tranquillo. Le rapine erano state fatte due anni fa, il paese in due anni è cambiato tantissimo. E al riguardo ne approfitto per dirvi che mercoledì alle 21 ore italiane ci sarà una diretta dove il tema che mi piacerebbe intraprendere e parlarne proprio è El Salvador. Perché per me è stata una dolce, una bellissima scoperta sia il paese sia la gente. Ho avuto la fortuna di parlare con due avvocati, ho avuto la fortuna di essere ospite da due persone più il campeggio a El Tunco, quindi ho delle cose da condividere con voi su quel paese, cose che ho appreso dai locali che hanno sempre vissuto per anni in Salvador e quindi vedono e sanno la situazione com'è, che è leggermente diversa da quella che viene passata sui giornali e sui media classici, a partire dal numero degli incarcerati. Sono molti, ma molti, ma molti di più. Eccoci qua Erika. Comunque no, non ho avuto paura, solitamente se non mi sento sicuro non dormo in quel posto, ma mi sposto fino a quando trovo qualcosa di sicuro e quindi dopo dormo tranquillo. Passiamo alle domande invece sotto i commenti. Elsa, ciao, conosci quelle aziende che offrono il corso per diventare camionista professionista? Credo ti riferisca all'America, sì, nel senso basta andare su Google, ce ne sono diverse. Quelle che offrono il corso per diventare camionista poi sono quelle che pagano di meno, perché ovviamente non è che te lo offrono, te lo fanno scontare con il lavoro dopo. Però siamo sempre al punto di partenza, avevo risposto la settimana scorsa, serve un permesso di lavoro, se no non c'è possibilità neanche di fare il corso. Senza permesso di lavoro non si può fare nada. Altra domanda. Diego. Ciao Fabrizio, quando ti sposti in un'altra nazione ti devi appoggiare ad una nuova compagnia telefonica, con relativo cambio di sim car. Volevo sapere se riesci a mantenere il tuo vecchio numero oppure devi usare quello della nuova sim. Diego. Chiaro, devo cambiare ogni volta la sim e cambia ovviamente sempre il numero. Il mio numero lo mantengo per Whatsapp, in più io ho due telefoni dove in uno comunque tengo sempre la mia scheda americana e ho sempre il mio telefono. È sempre spento, però ogni tanto lo accendo per vedere se mi è arrivato qualche messaggio o qualche cosa, qualche notifica. Luigi. Grazie Fabrizio, in effetti penso proprio che El Salvador sia un luogo interessante al pari del Guatemala, ma non c'è un po' di criminalità. Luigi, ti riporto alla live di mercoledì. Il paese è cambiato tantissimissimissimamente, la criminalità è molto molto bassa. C'è la criminalità come abbiamo noi in Italia, ci può essere qualche furto, qualche omicidio, qualche stupro, come in questi giorni in Italia, però l'organizzazione criminale, diciamo le ghenge, queste sono state quasi debellate al 100%, però live mercoledì sera che ne parliamo più approfonditamente. Alan, El Salvador, tra omicidi e gang criminali hai messo bene. Hai mai avvertito sensazioni di pericolo? In 11 giorni che sono stato là, proprio tranquillissimo. Come ho detto prima, la prima domanda del lunedì delle risposte e dei commenti di YouTube, non mi sono mai sentito in pericolo in 300 giorni e tanto meno in Salvador. Anzi, Salvador è il paese che mi sono sentito più sicuro. Fabrizio, volevo chiederti, ma igienicamente, questi ristoranti come sono messi e poi gli scontrini esistono? Un abbraccio. Gli scontrini, guardati, mando a lunedì scorso che ho risposto. Saverio, per quanto riguarda l'igiene, io li paragono agli spacciatori di colesterolo che c'erano negli anni 90. Una volta che si andava in discoteca, si usciva, si andava in questi furgoni per strada a mangiare il panino con la salamella, l'igiene lì non era granché. Qui uguale, soprattutto se vai negli street food, sono abbastanza spartani, però se si prende roba cucinata sono tranquilli, non sono mai stato male. Però i ristoranti normali, quelli di livello, non li frequento, non lo so, ma credo che più o meno quelli belli l'igiene come può essere in Italia. Questa domanda è stata fatta più volte. Alfredo, ciao Fabrizio, come va? Bene, grazie. Una domanda per la prossima puntata, una volta in Argentina, che programma hai? Pensi sempre di andare in Russia? Massimo mi chiede, grazie che ogni mattina guardi il mio video, e mi chiede anche lui, dopo l'Argentina cosa farai? Cosa farò? Allora l'idea è sempre quella, dopo ho arrivato in Argentina, Ushuaia, tornare a Santiago del Cile perché io voglio scendere l'Argentina, diciamo dal lato est del paese e risalirlo dal lato ovest per poi entrare in Cile. Io il Cile arriverò dalla Bolivia e farò solo il deserto di Atacama, dopo andrò direttamente nel nord dell'Argentina e taglierò tutta l'Argentina, Argentina, Paraguay, Cascate di Iguassù, Brasile fino a Porto Allegre e dopo Sud, Uruguay, Montevideo, Buenos Aires e da lì si va verso Sud e dopo si ritorna verso nord. Santiago del Cile, l'idea è mandare la macchina a Vladivostok in Siberia, questo porto di fronte al Giappone e da lì attraversare tutta la Siberia e tutta la Russia e una volta arrivato a un certo punto dovrò decidere se continuare per andare verso Mosca, San Pietroburgo, Finlandia o Lituania, se non ricordo male i due confini nord, oppure se tagliare da qualche Stan, tutti gli stati, Tarkicistan, Pakistan, Afghanistan, avete capito no? Se tagliare da quella parte lì, Armenia, Turchia e Grecia e rientrare dall'Italia da quella parte lì. L'idea è quella, la farò? Non lo so perché ancora manca tantissimo tempo, sarebbe per l'estate ovviamente 2024 perché ovviamente l'estate 2023 è alle porte, vedremo, questa è l'idea, questo è il sogno, noi ce la mettiamo tutta per realizzarlo, dico noi perché siamo io e la Nina, anche la Nina mi dice sempre che vuole fare le strade russe, le montagne russe vuole fare, fantastico. Tony, quindi se sei ancora in green card non c'è un obbligo di residenza minima negli Stati Uniti o mi sbaglio, sì c'è una regola che dice che devi passare almeno 181 giorni all'anno per mantenere la green card, questo e in quasi tutti i paesi del mondo e anche in Italia per mantenere il permesso di soggiorno per uno straniero deve passare 181 giorni in Italia, però gli Stati Uniti se paghi, se paghi, 550 se non ricordo male puoi fare un'estensione per stare fuori dagli Stati Uniti due anni e mantenere la green card, easy peasy. E la persona o le persone che ti ospitano, Giuliana mi chiede, l'hai contattata tu? Sì, le persone che mi ospitano sono tutte di Cowsurfing o Workaway, quindi sono io che ovviamente le contatto. Normalmente cosa faccio? Quando vado in una città che cerca ospitalità, mando 4, 5, 6 richieste e la prima persona che mi risponde io accetto e vado da lei. Mi sa che arriviamo all'ultima domanda del giorno, quella piccantina piccantina, che me la fa user-gv1ej4xf2u, un nome un po' complicato, mi dice una domanda un po' piccante, con la francesina c'è stato qualcosa? No, buona vita. Ada, chiamiamola Ada, la traduzione diciamo del suo nome in italiano, ha 35 anni ed è appassionata, diciamo, di uomini giovani. Io ho 47 anni, sono fuori dalla sua visione, diciamo, lei solitamente 7-8 anni più giovane di lei, quindi se c'è un ragazzotto che mi sta seguendo sotto i 30 anni, ecco lei, lei sarebbe la vostra compagna ideale se vi piace viaggiare. Se hai da 30 anni in su ci sono poche, 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 ma poche speranze. E niente, questo sincero, sincero, ovviamente un po' una lacrimuccia scende, però è la vita, no? È la vita, è la vita. Anche per questo lunedì delle risposte abbiamo finito, vi ricordo che ho perso le altre domande, se non ho risposto oggi alla vostra domanda, per favore, nella descrizione, anzi nei commenti, rilasciate la domanda e la prossima settimana risponderò a voi. Io adesso mi godo un po' questo panorama, noi ci vediamo domattina con un nuovo video. Mercoledì, mercoledì, che sarà il 17 maggio alle 21 per la live, dove parleremo di Salvador, che è un argomento veramente che mi piace. Voi per adesso che fate? Iscrivetevi al canale, mettete il like e un commento con una domanda e in descrizione il link per iscriversi a Telegram, perché avrete precedenza sulle risposte, Instagram, diciamo anche su Instagram avrete le precedenze sulle risposte, iscrivetevi anche su Instagram, però Telegram è più intimo, diciamo. E Facebook, niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video e lunedì per le nuove risposte. Io adesso mi guardo il panorama. Grazie. Grazie.